Condannati dai numeri imposti dalla legge di riordino delle Camere di Commercio e non da criteri come efficienza, servizi dati dall'impresa del territorio, buona amministrazione. E questa è la situazione in cui si trova la Camera di Commercio di Nuoro che sta combattendo una battaglia per la propria sopravvivenza. Una lotta impari di fronte al criterio ragioneristico che nel nome di una razionalizzazione della macchina amministrativa dello Stato rischia di cancellare anche gli uffici efficienti. Una battaglia quella della Camera di Commercio che intende rimanere organismo autonomo senza accorpamenti con Sassari o Cagliari e che si combatterà in Parlamento a Roma ma che necessita della mobilitazione di tutte le forze del territorio non solo economiche ma anche politiche, sociali e sindacali. A rischio non ci sono solo i 17 posti di lavoro ma la stessa possibilità di fare impresa nel Nurese avendo un organismo finanziato dalle stesse aziende che fornisce servizi da formazione, promuove eventi e manifestazioni come Autunno in Barbagia in grado di essere una vettrina per l'economia della provincia. Il punto sulla situazione in cui si trova l'avvertenza è stato fatto stamattina a Nuoro nel corso di un convegno dal titolo La riforma delle Camere di Commercio Quale destino per Nuoro? Promosso da quattro organizzazioni di categoria La Confindustria della Sardegna Centrale è rappresentata al tavolo dal presidente Roberto Borgnoli dalla Lega Coppo col presidente Totonissanna dalla Confartigianato Sardegna con la presidente Maria Carmela Folchetti e dalla CNA Ogliastra col presidente Vito Arra A dibattere del futuro dell'ente camerale nuorese il senatore Giorgio Pagliari il relatore di maggioranza in commissione e il senatore Giuseppe Luigi Cucca In sala tanti rappresentanti delle varie associazioni di categoria i sindacati e amministratori locali È toccata alla presidente Folchetti illustrare i termini della questione e ricordare i numeri virtuosi dalla Camera di Commercio di Nuoro che paga una razionalizzazione che porterà a ridurre gli enti camerali da 105 a 60 Nuoro verrà messa nel calderone insieme a Camera di Commercio che distano soli 50 km in pianura mentre Nuoro è un'isola nell'isola con problemi logistici importanti e un tessuto economico spesso sfilacciato e da recucire Quello che si chiede alla politica nazionale è di tenere presente la particolarità di una regione come la Sardegna e del Nuorese che non vuole sconti ma che si vada al di là del limite imposto di 80.000 imprese per sopravvivere alla scura dei tagli La battaglia per la sopravvivenza della Camera di Commercio di Nuoro è appena iniziata e serve perseveranza e l'appoggio della regione per poterla vincere La battaglia per la sopravvivenza la battaglia per la sopravvivenza